Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano Appena sveglia la coppia torna a battibeccare ma un abbraccio conclusivo sembra risolvere la situazione Dopo la loro lite notturna, il primo pensiero di Alessandro appena sveglio è quello di tentare un chiarimento con Sofì Non mi ascolti mai comincia, convinto che Sofì non sia mai davvero disposta al dialogo costruttivo perché, sicura delle sue ragioni, non riesce ad accogliere il suo punto di vista diverso Consapevole dei problemi della loro relazione, il ragazzo le chiede con calma di parlare quando lei sarà pronta e lo vorrà, quando ne avrà voglia o da fare dei discorsi con te Sofì, però, non capisce perché se Alessandro è convinto che tra loro ci siano dei problemi così seri questa notte la abbia abbracciata e le sia stato vicino tutto il tempo Sono esausto da questa persona che mi tratto in questo modo, stai sempre a fare sfide e a fare guerre dice Alessandro, stufo della situazione di conflitto che c'è tra loro ormai da un giorno Come loro solito, il battibecco va avanti tirando nuovamente fuori tutto ciò che fino ad oggi li ha portati a discutere, proprio perché ti amo ti dico certe cose conclude Alessandro, cercando di far capire a Sofì che le sue critiche e i suoi rimproveri sono motivati solo dal grande amore che prova per lei L'amore non è bello se non è litigarello infatti dopo la loro discussione mattutina i due non possono fare a meno di finire nuovamente uno tra le braccia dell'altro Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video addio